Una caratura e una credibilità a livello europeo che può giocare, probabilmente parte anche magari leggermente favorita, comunque se la puoi giocare tranquillamente alla pari con l'Atletico, non vedo quale difficoltà, quale ostacolo. No, no, secondo me il fatto è che sulla carta l'Inter parte leggermente favorita rispetto all'Atletico, cioè se vogliamo dire che c'è una favorita. Poi vabbè, ci dice Jordan, il ciole interista fracico, penso che sia una buona ragione per dire ok, allora non passo il turno in Champions, però non so, secondo me non è un sorteggio facile per l'Inter, ma non lo dico adesso, l'avevamo detto ieri, ieri dicevo addirittura che secondo me sulla carta la squadra più difficile da beccare per l'Inter era l'Atletico, quindi nel caso recuperatevi anche la live di ieri, non lo sto dicendo adesso perché è successo il sorteggio, ma perché nell'ottica di un Inter che parte non favorita, cioè che partiva non favorita prima del sorteggio e che quindi partiva diciamo da una posizione di inferiorità rispetto alle possibili big che ti potevano capitare, secondo me per il gioco che ti permettono di fare squadre, cioè che l'Inter avrebbe potuto fare contro squadre tipo l'Arsenal per esempio, o anche il Dortmund, cioè sarebbe stato molto più semplice. L'Atletico invece ti impone di fare il gioco che vuole l'Atletico, secondo me, con tante variabili, perché per esempio l'Atletico visto contro il Barcellona quest'anno, secondo me è stato il peggior Atletico della stagione, l'Atletico visto contro il Bilbao è stata una squadra molto disattenta, che è stata anche lì abbastanza presa a pallate, però io ho visto anche delle versioni, le abbiamo raccontato più volte in stagione, dell'Atletico Madrid, c'è le versioni di una squadra che non si vedeva da tempo, con la manovra molto fluida, con dei quinti che si buttano dentro tantissimo, sarà molto interessante perché poi anche con molto speculari come squadre, il modo in cui giocano i quinti, ovviamente i braccetti dell'Atletico fanno un lavoro nettamente diverso rispetto a quelli dell'Inter, però è intrigante e soprattutto con due coppie di attaccanti che stanno andando forte, per cui mi intriga moltissimo, cioè obiettivamente è una partita davvero intrigante. Sì, tra l'altro anche questo fattore delle coppie d'attacco veniva menzionato ieri, proprio casualmente sembrano queste due squadre avere le due coppie d'attacco al momento più in forma, quindi è anche vero quello che ci scrivono in chat, però Dave, l'Atletico di adesso, l'Atletico che troveremo tra qualche mese potrebbero essere due squadre molto diverse, quindi chiaramente questo vale per tutte le squadre di Champions, ma forse in particolare per questo match-up. Comunque, ritorno in casa dell'Atletico. Esatto. Eh, quello è il tosto. Quindi più o meno si capisce come la potrebbe preparare il ciolo all'andata. Esatto. Così a naso. No, come diceva Davide, rispetto ad altri incroci, è quello dove mi aspetto che chi vincere anche molti duelli individuali e poi farà la differenza rispetto ad aspetti tattici che mi sarei aspettato di più contro altri avversari da parte dell'Inter. Qui ci sarà molto importante andare a vincere anche i duelli individuali. Poi sulle coppie d'attacco, sinceramente, io non sarò magari in minoranza, ma io non cambierei quella dell'Inter con quella dell'Atletico. Non in questo momento, cioè in questa stagione io non li cambierei. Poi stai parlando di attacchi di altissimo livello, però per me è un sorteggio 50-50. Vedo che scrivono alcuni 75% Inter, mi pare molto ottimisti. No, io ti dico, secondo me, sulla carta è leggermente avanti l'Inter, ma perché comunque stiamo parlando della squadra che ha fatto la finale di Champions l'anno scorso. Cioè, queste cose, secondo me, devono avere un peso, se si vogliono dare le percentuali, però ti dico. Ed è prima di Gallia, cioè non è che... 55-45, una roba del genere, 60-40. Però già il fatto che anche in chat non siano tutti d'accordo sta a indicare che è ritenuto molto equilibrato, anche perché gli altri sono piuttosto sbilanciati, se non troppo sbilanciati, per renderli davvero interessanti. Tommy, abbiamo preso i diritti, o Davide, abbiamo preso i diritti per trasmetterle, no? Quindi posso dire che... Oh, purtroppo abbiamo preso... Posso tranquillamente dire che mi hanno deluso e gli abbinamenti, no? La nostra offerta da 40 gole ad ora è stata rispinta dalla UEFA. E i bits di Tommy, quanti ne hai? Esatto, gli abbiamo offerto anche tutti i bits che avevamo ammazzato. E tra l'altro ne approfitto anche per dire che per questa stagione natalizia grazie a tutte le elaborazioni che ha fatto Ettore in partnership.witch abbiamo anche i bits scontati, quindi se volete fare a noi della fiera un regalo è il momento di acquistare i pacchettoni di bits. Hanno dei limiti, bisogna donarne più di 300, ma considerando che un pacchetto sono 1,50 euro, ce ne sono dentro centinaia, se volete farci un regalo direi che sarebbe una cosa fattibile. E anche oggi abbiamo evocato dagli inferi l'essenza di Giorgio Mastrota per venire tra noi e cercare di venderci. Però è vero, è così che noi ci manteniamo e andiamo avanti. Quindi ragazzi, se volete regalarci qualcosa per Natale, bits scontati! Si comprano il diamantino, quella piramidina. Andiamo con ordine sulle partite. Porto Arsenal non c'è storia. Non lo so, perché secondo me Consessao è uno di quelli che le incarta. Cioè comunque anche l'anno scorso con l'Inter ci sono serviti due miracoli di un anno al novantesimo per restare dentro. Era la gara di andata, l'aveva giocata bene. Non lo so, è più... Poi l'Arsenal in questo momento sta giocando bene. Però sì, se devo fare un pronostico dico Arsenal. David, ti dico una cosa. Anzi, vai, vai, vai. Ma pareggia a Porto e 3-0 a Londra. No, io quando stavano tirando fuori... Cioè, io personalmente direi la stessa cosa che ha detto Albe, mi sembra un po' quella la dinamica scritta. Però, mentre erano iniziati i sorteggi, avevo in mano le carte, stavo provando a tirarne fuori una per determinare l'avversario del Porto. e la carta che è venuta fuori è sconfitta. Quasi come a dire che non so quale sarà la squadra che sarà in match-up col Porto, ma quella squadra verrà sconfitta. Secondo me è stata una mislettura mia mentre organizzavo, però la butto lì. Perché a me sembra strano personalmente, ma le carte dicono che l'Arsenal potrebbe uscire sconfitta da questo match-up. Però sai, l'Arsenal, allora, era un'altra competizione, era una situazione diversa. Però l'anno scorso in Europa League con lo Sporting, in casa, è crollata. Non so. Con Seisao, come Amorim, è un altro che te la puoi incartare molto bene. Però sono d'accordo con voi, chiaramente. No, c'è anche una cosa da dire, che se... Ah no, giocano a marzo. Marzo-aprile? Mi sono mandato a 13-14 febbraio, scusa perché stavo guardando le date. No, stavo cercando di incastrare le eventuali partite dell'Arsenal per capire, no. In linea di massima è anche abbastanza tranquilla perché la partita con Liverpool avrebbe il 3 febbraio, per cui la settimana prima eventualmente di giocare, se gioca il 13, per cui... Tutto sommato anche il calendario è un po' dalla parte dell'Arsenal perché lo volevo collegare al discorso che facevamo anche prima sull'idea che comunque l'Arsenal punta anche a vincere la Premier. Per cui sai, è un attimo poi in queste situazioni qua infilarsi male. L'unica... No, 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 il calendario... No, gli cade bene anche col calendario, davvero, senza grossi problemi. Quindi chi hanno? Chi ha l'Arsenal come calendario? Allora, ti dico in fila, hanno... Dal 3 febbraio in poi, hanno Liverpool, West Ham, Burnley, Newcastle, Sheffield United e Brentford. La sfida col City sarà... La vittoria del Brentford, se vince con il Porto, la doppia sfida, la vittoria del Brentford è quotata 1-0-1. Brentford che la sfanga contro Arteta in mezzo alle partite di Champions è scritta, proprio. Sì, anche il malefico Sheffield lì che attende. Comunque, guarda che stia il Porto che il Brentford sono due squadre veramente che non c'è troppa voglia di incontrarle, c'è proprio rottura di scatole. Il Brentford non c'è neanche proprio voglia di vederli giocare, però sì. Ho capito. Andiamo avanti. Andiamo avanti, però ragazzi, scusate, volevo chiudere perché ero titubante, ma le carte mi hanno sempre letto la verità e quindi io a maggior ragione rimango così. Secondo me l'Arsenal si fa male in questo match-up. Lo ha detto. Giusto così. Allora, Napoli-Barcellona. Prima abbiamo parlato con Tommy e con Caro del Barcellona nel momento. È un po' una lotteria col Barcellona perché adesso è un momento difficile, poi magari arrivano alla gara di andata che sono in una fase in cui tutto va bene e la stampa spinge la squadra. Stesso discorso per il Napoli. In questo momento sono un po' vacillanti, però non sai mai che il Napoli incontri tra due mesi. Non lo so. Io vedo, anche solo per i nomi del campo, un Barcellona favorito è anche un po' più avanti rispetto al Napoli. Cioè, Napoli fa fatica, eh. Napoli fa fatica e in linea di massima, in questo caso so che è un po' banale dirlo, però pesa davvero l'incognita Coppa d'Africa. Cioè, quanto sta via Ozyman? Sarà disponibile sulla carta per la partita di andata, però quanto, cioè, sta via tre settimane o se la Nigeria arriva fino in fondo sta via così tanto? Non lo so, è tosta. E per il Napoli è veramente tosta. È molto tosta anche perché Barca può cambiare tutto. Cioè, può essere che adesso Barca stia entrando in un loop, detto che comunque col Valencia, secondo me ha fatto la prestazione e meritava ampiamente la vittoria a Barcellona. Poi, è vero che ci sono tante disattenzioni, disattenzioni, dietro qualcosa non sta girando, poi adesso è rientrato Baldè, quindi sono scalati un po' nelle posizioni, Arauco è tornato centrale e Cancelo a destra. Voi sapete come la penso su Arauco terzino, una cosa che secondo me la... C'è il tassello che dà più equilibrio al Barcellona. Secondo me ci sono anche tante note positive nel Barca. Cioè, il modo in cui Frenkie de Jong è rientrato dall'infortunio è la miglior versione Frenkie de Jong che abbiamo mai visto a Barcellona. Cioè, esattamente il de Jong che ci si aspettava quando è arrivato a Barca. Finalmente. E poi la variabile attacco, secondo me, su Lewandowski pesa tanto. In questo momento chiaramente Lewandowski è in un pessimo periodo di forma, però bisogna anche capire poi come arriva... Se ti arriva a gennaio, come pare, è Vitor Roche. Comunque sai, se Vitor Roche arriva a gennaio e... Non so. Non so. Comunque è un'arma in più. È un giocatore in più che... Che può cambiare un po' anche le rotazioni del Barcellona. Non so. Ci sono tante variabili. Secondo me se il Barcelli ritrova solidità per il Napoli, visto finora, non c'è storia. Però... A me il Napoli nelle due sfide con il Reale è piaciuto, però ha palesato che ci sono almeno due o tre giocatori che devono veramente overperformare per stare a quel livello. Almeno due o tre. Quindi la vedo molto molto dura. Io direi 60, Barcellona e 40. Cioè penso che Vitor Roche rientrerà... No, Vitor Roche è già rientrato, eh. È già rientrato l'infortunio? Mi ricordo questa immagine di lui che gioca la sua ultima partita prima di... Sto vedendo che arriva a Barcellona il 27 dicembre e inizia ad allenarsi dal 28. Quando la squadra rientra dalle... Vitor Roche è potenzialmente il jolly che peschi dal mazzo. Cioè proprio nell'ambito della stagione del Barça, non solo nell'ambito dei prossimi 5-6 anni, lì sicuramente non ci sono dubbi. Ah, ma proprio il discorso anche di confronti, di reparto, di uomini, di... Mi sembra molto più avanti il Barcellona in tanti reparti. Poi come dicevi te, anche la partita col Valencia, cioè ci sono state delle giocate abbastanza clamorose. Poi sei sempre lì, cioè se Gioao Cancelo e Gioao Felix cominciano a combinare... Cioè è tosta per qualsiasi squadra, tanto più per un Napoli che è molto molto disattento. è tosta, è veramente tosta. Sì, ma tanto ora di allora Mazzara avrà fatto la metamorfosi completa, ci sarà Kvara tutta fascia a sinistra, di Lorenzo tutta fascia a destra, e si vola, non si teme a nessuno. No, per esempio la partita col Girona ha dimostrato che il Barcellona soffre tantissimo i ritmi alti. E il Napoli è una squadra... Altri spallettoni ci sarebbe andato a nozze. Siccome si continua a spingere con l'idea di un Napoli che deve più avvicinarsi, cioè non lo sto dicendo io, lo sta dicendo Mazzara, che sta provando a portare la squadra verso un atteggiamento più simile a quello dell'anno scorso, se riesce a mettere in campo una pressione alta, dei ritmi alti, una capacità di andare a prendere l'avversario alto, ha le qualità per metterle in difficoltà. È proprio un discorso di quello che facevo di insieme generale. Sì, però poi ti servono le letture difensive, le letture di Nathan, non solo le letture di Kim. Cioè ci sono delle situazioni dove ci sono dei giocatori che devono poi andare, giocare in quel modo, cioè Zelinski poi deve farti tutta la partita a ritmo alto, l'anno scorso è stato più un caso rispetto a quello che fa vedere il solito. E un'altra cosa sul Napoli, giusto? Adesso magari le devono ancora definire. La partita di andata, se si gioca il 13-14, il Napoli la gioca dopo Milan-Napoli. E la partita di ritorno, se si gioca il 5 marzo, la gioca dopo Napoli-Juve. E se invece la gioca 12-13, la gioca prima di Inter-Napoli. Quindi è molto... Si incastra anche... Sto guardando il calendario del Barça e a febbraio e marzo, c'ha tutte squadre. Granada, La Vest, quella che c'ha poi qua, Seltavigo, cioè... Non proprio... No, io condivido il commento di Andre Gara, cioè magari sono veramente ottimista sul Barcellona, e come dicevo, però c'è un determinato tipo di, come dire, di impostazione. Cioè io la partita con l'Anversa non l'ho vista, ma secondo me sono andati proprio a fare la non competitiva. Posso immaginare una cosa simile. Io le partite che vedo, quando mi capo di vedere il Barcellona, mi sembra che ogni volta che l'avversario comincia a... O migliora il palleggio, o aumenta la pressione per mandare fuori giri il sistema del Barça, lì, altrimenti il Barça fa fatica ad andare in crisi. E Napoli in questo momento non ha nessuna delle due armi che può sfruttare fino in fondo. Poi, sono anch'io convinto che gli butti una palla di cento a Usimena, è capace di fare il gol, per cui... Non lo so. Passiamo alla prossima, che sta arrivando la grande competizione europea. Esatto. PSG Real Sociedad. Aspetta, sto cominciando a nervosirmi per i sorteggi di dopo. Vai, vai. Ma fallo da solo. Eh? Parli da solo, Tommy. Sì, no, scusami che Andra... Sì, perché alla una chiaramente andiamo avanti con gli altri, mi sono messo a disagio Andra, porca città. Eh? No, allora, facci prima te con le carte PSG Real Sociedad. Ah sì, allora aspettate che ci metto un attimo, intanto dite voi le vostre baggianate. Le deve mescolare. Le deve cercare. Boh, cioè l'Area Sociedad vista con l'Inter è in più in generale all'inizio della stagione una bella squadra. Però di là c'è sempre Mbappé, cioè non so com'è... è meno squilibrato probabilmente di quello che può sembrare dal nome, però... Cioè... Beh, vedo comunque passare il PSG, non riesco ancora a immaginarmi come. Stesso discorso che abbiamo fatto per il Barça, secondo me, per il PSG. Cioè, su squadre così, due mesi cambiano tutto, soprattutto nel caso di Luis Enrique, perché sono ancora i primi mesi. Cioè, l'evoluzione di questo Paris Saint-Germain, secondo me, facciamo ancora un po' fatica a immaginarci. Cioè, abbiamo capito che è una squadra che non può giocare senza Ugarte in questo momento, che ha bisogno di fare un certo tipo di lavoro, che può contare meno su Gonzalo Ramos e magari più su Colomoni, che ha bisogno ancora del miglior Dembélé. Dietro fa... cioè, ha dei buchi... Però... cioè, quante cose posso... c'è anche di mezzo al mercato. Paris Saint-Germain qualcosa a gennaio, comunque per alzare ulteriormente il livello lo può fare. Ha comunque una serie di giocatori in crescita. Cangina e altri. E non lo so. Zaire Emery. Le carte... È vero che la Real Sociedade è potenzialmente una squadra deleteria per il Paris. Anche con quel pressing della Real in questo momento, il Paris Saint-Germain, secondo me, in questo momento, oggi, non lo reggerebbe. Sulla doppia sfida. Andando a febbraio, credo di sì. Ma, ci sta esattamente quel ragionamento. E tra l'altro, anche le considerazioni di mercato è esattamente quello che dicono le carte. Per quanto riguarda la Sociedade, è venuto fuori l'eremita, quindi sì. Mi sa che rimarrà tagliata fuori al freddo, ovvero verrà eliminata. Per quanto riguarda il PSG, una carta particolare che è la Regina di Coppe, che implica essere molto fertile emotivamente, avere molta pazienza, saper gestire le realtà interiori emotive, quindi magari trovare quel tipo di quadra. E asso di pentacoli. Quindi proprio giocarsi un asso di denari, probabilmente, nel mercato, e giocarsi questo piccolo asso e andare a rinforzare in qualche modo la squadra, in maniera determinante. Asso di pentacoli, prima volta che lo sento nella mia vita. Io adesso devo capire... Una lettura dei tarocchi e te la dovrò fare, Andra. Devo capire come inserire in un mio pezzo fertile emotivamente, perché veramente mi è piaciuta molto. Adesso trovo un modo di inserire. Può essere emotivamente riarso quando si è bruciato troppo, oppure fertile, che riesci ancora a dare, a gestire tanti equilibri, no? No, no, ragazzi, a me Tomi ha fatto una lettura dei tarocchi qualche mese fa e clamorosamente tutto sta andando esattamente come mi ha detto lui. Cioè, incredibile. Io cerco di non crederci, perché se fosse vero sarebbero delle prospettive favolose nei prossimi mesi, però passo passo le cose si incastrano esattamente come hanno detto i tarocchi di Tomi. Ve lo giuro. Merito delle carte. Io dico Paris 65 e Real Sociedad 35. Le amnesie difensive del Paris, secondo me, potrebbero essere punite molto meglio da altri tipi di squadra. Quindi, secondo me, resta decisamente favorito il Paris. Non so se hai visto, André, il passaggio di ieri a tempo scaduto di Asensio per far segnare l'Until. Devo recuperarla. Ieri avevo primo schermo Lazio, secondo schermo Real Madrid. Quindi, si dicono Tomi è tipo Dio, ma anche qualcosa di più, secondo me. Sì. Meno male che hanno usato la mia muscola. Cioè, Dio è un Tomi che non ce l'ha fatta, mettiamola in questi termini. No, André, per favore. Dai, mi metto in difficoltà, adesso devo andare a confessarmi, a mettermi un ginocchio sui ceci per riequilibrare. Allora, interatletico ne abbiamo parlato. PSV Borussia. Allora, può venire fuori... Allora, anche se... No, non lo so. Secondo me può essere Borussia. No, parlavo più di che partite possono venire fuori. Qua può venire fuori uno 0-0 andata e ritorno con partita recisa e calci di rigore, che è un 4-4 sia andata che a ritorno. Cioè, non riesco a... Anche qui faccio fatica. Tu dici PSV, te avete, secondo me... PSV è tra l'altro la partita di boss, cioè che ritorna in posto in cui l'hanno massacrato. Per cui... Quindi masterclass sta arrivando. Secondo me... Lui, secondo me, adesso non dorme per tre mesi, aspettando le partite. Metti in crisi... No, e anche qui Borussia che Borussia... Cioè, PSV, secondo me, più o meno. A meno che non facciano qualche cessione strana a gennaio, quale la squadra. Borussia... Eh, Borussia gli ho visto fare partite veramente orrende e partite invece interessanti. Secondo me 51 PSV, 49 Borussia. Siete? E allora io vado col Borussia, così poi ve lo rinfaccio. Ci sta, ci sta. Oh, Lazio Bayern Monaco. Dai Tommy, dai... Adesso va bene tutto, ma non penso che ci sia bisogno di scomodare le carte. Poi, il bello del football è che può succedere il tutto, magari possiamo chiedere il modo in cui, però, mi sa che sul risultato... No, però, allora... È vero che ogni tanto il Bayern spegne l'interruttore, perché comunque... Sono andati fuori in Coppa di Germania, ne hanno presi cinque contro l'Aintracht. Sono un po'... Anche parlando con Roby, non sono sempre, come dire, sul pezzo come squadra. Cioè, sono in una fase di passaggio. Detto questo, hanno la qualità e la capacità di punire qualsiasi tipo di errore. E la Lazio è una squadra che ne sta commettendo tanti in questo momento. Non riesco a capire come possono provare a metterli in difficoltà. Il Bayern è veramente squadra ben organizzata, ben costruita. Se fosse una partita di Bundes, qualche minima possibilità alla Lazio gliela darei. Ma siccome è una partita di Champions, l'attenzione è totalmente diversa rispetto alle partite di Bundes. che ho visto del Bayern. Anche se io continuo a pensare che il Bayern difenda male. Ma difenda veramente male. Però non è la Lazio che... Cioè, metti anche che la Lazio gli faccia due gol da andrà a ritorno. E probabilità che ne prenda cinque o sei sono molte di più di quelle che ne faccia due o tre. E quindi... Sempre qui. Sempre iniziamo. Poi c'è Enrique che fa un gola partita. Cioè, sta roba va tenuta in considerazione. Temo anche più di uno a partita. Per cui... No, no. Cioè, non penso che ci sia una partita. Poi, se Felipe Anderson si sveglia con il piede di Ronaldo il fenomeno, cosa che ogni tanto gli capita. C'è una volta ogni tot mesi. Se Pedrito fa l'ultimo canto del cigno, Immobile una partita da Immobile Prime, si allineano le costellazioni, magari su una delle due sfide la Lazio può fare la sorpresa. Sui 180 minuti mi sembra molto, molto dura. Troppo improbabile. Abbiamo Albi in versione Andreotti. Ha detto... Ha il wifi della Clementoni. Bellissimo. No, poi... Certo, perché... Per parlare bene della Lazio. Cioè, io mi aspetto una grande prestazione di Luis Alberto, sia l'andata che il ritorno. Perché Luis Alberto sta dimostrando di essere giocatore da grandi partite, si sta caricando la squadra, sente le responsabilità. Per cui, non credo che la Lazio vada al tappeto senza combattere. È proprio una disparità di cilindrata, come la chiama Sarri. Le cilindrate sono diverse. Da una parte è una squadra che prova la partita, prova ad aggredirla con giocatori che mangiano il campo. Dall'altra parte, i giocatori che provano a tenere palla, però in questo momento fanno fatica, come parlavo prima per il Napoli, sia a tenere palla, sia a provare accelerazioni. La vedo... Guarda, Andre, la storia che viene fuori con le carte è un po' quella. Ci sarà una Lazio con Strife, che quindi ci proverà tantissimo a metterci energia, e addirittura ci crederà e andrà alla conquista col principe di bastoni, il principe dell'entrare nel mondo con la propria identità ed energia e fame. Quindi doppietta del Tati Castellanos, mi stai dicendo. Esatto. Però la carta del Bayern è tutto futile, futility non serve a un cazzo, ragazzi. A meno che l'unico caveat che mi viene in mente, e questa non è una questione di carte, ma di interpretazione che se ne vuole fare, io tenderei a leggerla così, ma siccome questa futilità pertiene alle spade, cioè al reame mentale, potrebbe anche influire l'equilibrio mentale che troveremo al Bayern ora di febbraio. Perché è vero che è una squadra talmente potente come istituzione, come modo di gestire le cose, che difficilmente avrà sbalzi, che persisteranno fino a questo inverno e a questa primavera, però qualora così fosse, se ci fosse una reale instabilità dentro al Bayern, dentro allo spogliatoio, allora questa fame, questa garra, questa voglia della Lazio potrebbe… Mi sembra molto inverosimile però che sia quello il problema. Non penso che tu, che le tutta gestione Bayern, cosa ne pensi, Dave? Dopo un anno in quel modo, statisticamente non dovrebbe essere probabile, no? Che abbia un altro anno caotico. Vabbè, c'è qualcosa che non torna nel Bayern, l'abbiamo detto. C'è qualcosa che non sta girando benissimo il fatto che… Io la riduco un po' alle voci su Kimmich e Müller. Non per dire che Kimmich e Müller se ne vanno sicuramente dal Bayern, però il fatto che nell'ambiente Bayern ci siano così tante voci e ci sia un po' questa instabilità che normalmente storicamente non c'era mai stata prima dell'interregno Kans-Aliamidzic, cioè secondo me fa sempre… Cioè deve sempre far riflettere sulla situazione del Bayern, però da qua a immaginare che la Lazio elimina il Bayern, secondo me è buona. Cioè serve davvero un'impresa sportiva come poche? Sì, no, più che altro penso che serve un'impresa antisportiva o meglio un'impresa di collasso su se stessi del Bayern per facilitare l'impresa del Lazio. Questo è un sorteggio che se fosse venuto fuori, dico PSV, Bayern, Monaco, saremmo mandati subito oltre. Cioè stiamo provando a dare un contesto perché è la Lazio, però secondo me il Bayern è molto forte. Così come per dire Copenaghen City oltre andiamo, non capisco come… Poi magari succede l'imponderabile, però mi sembra veramente una roba… Sarebbe futile adesso stare qua e dire no, guardate il Copenaghen potrebbe fare il colpaggio. Però dobbiamo riempire ancora dieci minuti, Andra. Ma per riempire dieci minuti ho i possibili sorteggi per l'Europa League, ma figurati, non è… Non è un problema. Non mi siamo a posto. Poi vogliamo dire… Eh, vogliamo parlare della masterclass di Xavi Simons al Bernabeu? Cioè da qui a febbraio è solo un countdown rispetto a quella partita. Quella sta scritta nelle stelle. Il gol di Xavi Simons sotto l'incrucio al Bernabeu lo diamo già per assodato. Dopo 30 secondi pareggia Bellingham e poi nel finale la raddrizza macio di testa. Una roba che c'è. Prima dicevo che comunque paradossalmente prendere il Real adesso poteva essere quasi una… come dire… Poteva andare… Poteva essere meno peggio di quello che poteva essere sulla carta. Perché comunque sai, senza due centri di difesa, senza potere titolare, se non sai se finisce usere o meno, poteva essere un dubbio. Però poi adesso tu, Davide, hai citato Bellingham e mi è venuto in mente che non ci puoi fare niente contro la mistica. Io sono comunque curioso di capire cosa fanno per il centrale di difesa. Cioè se non vanno sul mercato, a quel punto secondo me la dimensione Champions del Real è tutta da capire. Perché comunque te la stai giocando in Liga. È vero che per adesso te la giochi con il… Cioè il Barca è considerato fuori dalla corsa e te la giochi con il Girona. Per cui potrebbe essere anche che a un certo punto, senza dover fare sforzi incredibili, ti trovi a fare la corsa da solo. Perché non è detto che il Girona… Cioè ovviamente sarebbe di nuovo miracoloso che il Girona riesca a reggere questi ritmi incredibili. Però se non c'è un sostituto di Alaba nel mercato di gennaio… E qua ci dicono Chua Meni, che comunque è una cosa di cui si sta parlando. Ma no, ci può stare Chua Meni. Io non ho dubbi sul fatto che… Sul fatto che Chua Meni, come Kamaving ha fatto la terzione sinistra, si sappia adattare. Però comunque se va avanti in Champions, Chua Meni è adattato. Comunque devi marcare Open Data. Eでは…